bella a tutti asfaltoni benvenuti su leon tube sua 9 ita switch eccoci arrivati a round 5 che termina tra due giorni quasi ormai un po meno del grand prix della arash f8 falcon edition purtroppo quarto round è andato abbastanza male non sono riuscito a migliorare avevo fatto 38 in allenamento 38 e 4 in gara nonostante abbia fatto anche meglio col secondo account e però qui vedete hanno un altro americano ha portato l'auto dalla terza stella abbondante quindi quindi ha fatto dei tempi migliori in più anche questo americano qua mi ha superato ho perso diversi punti anche se il mio primo avversario era questo qua al quale ho perso 10 punti eravamo prima pari punti ora invece sono a 10 punti quindi dovrei arrivare almeno tipo secondo proprio dovrei arrivare prima ora vediamo questa pista vediamo cosa riesco a fare e niente in bocca al lupo per me ovviamente anche a tutti voi per i vostri round andiamo comunque a vedere i premi fare 5 360 20 gettoni 4 buste dove poter trovare progetti un progetto per me poco utile della nsx gt3 evo cura 300 mila credit fan sempre comodo e un progetto della rush battendo il tempo di 1 21 qui tutti i tempi un progetto un pezzo di importazione epico completando tutti gli obiettivi andiamo a vedere subito insieme la pista cinque tentativi pista questa pista lunga se 5.700 271 metri malai a strada ghiacciata e quindi faremo due piste due giri diciamo li farò tutti e cinque ma nel video ne farò soltanto due sperando che siano quelli buoni questa pista andiamo subito andiamo subito via adesso non mi ricordavo che era un looper prix addirittura a te diceva dove sono le borracce le taniche ok partiamo quindi col secondo tentativo il primo andato male questa rush nelle rampe molto lenta a fargli avvitamenti eppure un'auto molto buono eppure un'auto più buono Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi diciamo li farò più avanti, altri tentativi, intanto abbiamo preso il progetto, sono finiti ovviamente se vogliamo altri progetti dell'Arasher F8 Falcon, l'abbiamo detto già altre volte, il negozio. Eccoli qua, 350 token, 3 progetti garantiti. Quindi un bel po', mi sembra altri 55 per la terza stella, sono molti quindi, 55 sono circa 3500 oggettoni, si potrebbe quasi fare, però dopo bisogna anche vincere la chiave. Allora, ok, adesso mettiamo in pausa fino all'ultimo allenamento così prendiamo un po' di scie perché qui è lunga andare a prendere le scie e migliorare ogni giro la scia perché la pista è lunga, ci vuole un pochino di più. Comunque, andiamo subito a fare e ci vediamo con l'ultimo tentativo di allenamento. Ok, eccoci all'ultimo tentativo, praticamente è andato male anche il quarto, quindi abbiamo fatti due, diciamo buoni, questo è il terzo, mi sono schiantato sul quarto contro un'auto. L'auto di destra ferma dopo il salto nel lungo rettilineo, un errore di precisione, andiamo a vedere come va quest'altro round, ho fatto sempre un po' di errori ovviamente. Stavo qua, avevo sbagliato, non di piccolo, devo stare recuperando ovviamente. Ok, siamo riusciti a prendere un piccolo secondo di vantaggio. Al fantasma che ora sta c'è dentro, ma non è un po' di più. Zero stage, sì, però siamo sul secondo e due, quindi uno diciotto e cinque. E iniziamo quindi con questo uno diciotto e cinque, ovviamente migliorabile. Non ho visto ancora altri tempi, andiamo a vedere se ha girato magari il peruviano, il canadese, quello lì. Io diretto avversario, andiamo a vedere se magari ha stampato già un tempo, perché ha sempre fatto i tempi. Subito, ma dai punti, ho visto che non era sceso, infatti non è ancora sceso. Eccolo qua, 10 punti di distacco, dovrei prendergliene 15, quindi io dovrei arrivare tipo primo, lui terzo o quarto. Perché i premi da noi, questo T3, canadese, non peruviano, la chiave lo prende fino al terzo. Vedremo se riuscirò in qualche modo. Qui intanto, ah, ha già girato. Eccolo, ha girato adesso, quindi ha aggiornato 1,15. 1,15 da fare, 1,15 e 4, con l'auto decisamente più scarsa, la mia. Vediamo il prossimo round, se riuscirò a migliorare pian piano col fantasma. Vedremo, vedremo come andrà. Intanto qui il video lo chiudiamo qua, se vi è piaciuto mi raccomando un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici, nei vostri social, non dimenticate di lasciare un commento e come sempre, se vi va, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e non dimenticate di cadere la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti. Ciao a tutti!